Oddio, tocca a me! Diamo inizio alla sesta edizione di X-Factor con il primo concorrente! Uè! Uè! Ciao a tutti! Io sono Noemi. Sono Noemi, ho 19 anni, vengo da Torino e canto, canto tantissimo. Ho iniziato a prendere lezioni di canto a 12 anni perché io vorrei fare questo, vorrei fare musica nella mia vita, però questo sogno che non riesco a realizzare mi tormenta, sono una persona tormentata, paranoica e voglio proprio dare, dare tanta musica e dare emozioni a tutti. Sono sempre una persona un po' timidina anche se sono solare, nel senso che gli adulti mi mettono un po' di soggezione perché hanno così tanta esperienza, io ho paura di risultare banale, però sul falco sono io e sono la forza, il centro di tutta la gravità. Come va? Alla grande, canca, da morire. Beh, di energia ce n'hai? Tanta. Quanti anni hai? 19. E cosa fai nella vita? Studio ogni tanto. E cosa? Lingue. Lingue ogni tanto? Ogni tanto, sì. E quando non studi le lingue cosa fai? Canto, canto e basta. Com'è che ti mantieni? Ogni tanto qualche lavoretto, ma c'è... Ogni tanto. Salutiamo i precari d'Italia! E salutiamoli sì, ciao. Bene, e allora che ci canti? Vi canto The Dog Days Are Over Day, Florence. Bravo, che bella canzone. Arisa è molto contenta della tua scelta. Bene, sono contentissima anch'io. Vai. Bella. Spacca tutto, salta, fai di tutto. Spacca tutto, salta, fai di tutto. On the track She hid around the corners And she hid on the beds She can't let them kisses And for all that she fled The horses are coming So you let her run You'll pass for your mother You'll run for your father You'll run for the children Your sister and brother Even your lover Your lover will be high You can never dream To dig and I'm sorry In our days I'm over And in our days I'm done Can you hear the orbs Cause here they come Gracias! Yes! Oh God!